Sono un Mejjai, guardiano d'Egitto. La mia terra è sull'orlo del Baratro. Per difenderla, devo diventare uno strumento di giustizia e libertà. Sei il mio Mejjai adesso. Guardiano del vero faraone d'Egitto. Gli dèi ci hanno dimenticati. Sta' attento. Le apparenze ingannano. Bayek, la vostra gente è in pericolo. C'è un nuovo credo ora. Veniamo dall'Ombra. E nell'Ombra resteremo. Noi non siamo più Mejjai. Saremo conosciuti... ...come assassini. ... ... ... ...